Chiunque desidera poter guadagnare soldi semplicemente giocando al proprio gioco preferito E in questo video vi spiegherò ben tre metodi per poter guadagnare qualche soldo in più giocando al vostro gioco preferito Fortnite Battle Royale Anche se in realtà può essere applicato per qualsiasi gioco Prima di continuare con il video vi ricordo che se volete potete supportarmi nello shop col coach e supporto a un creatore Octi PFI sia maiuscolo che minuscolo è completamente uguale Vi ricordo che il coach scade ogni 14 giorni quindi vi consiglio di riaggiornarlo anche in questo momento se già lo state utilizzando E se mi taggate su Instagram vi riposto tutti Ci sono tanti modi per poter trasformare la nostra passione in qualcosa che ci fornisce qualche soldo in più E i tre metodi che vi spiegherò sono tutti e tre metodi che potete utilizzare per guadagnare qualcosina Non diventerete milionari subito chiaramente è normale ci vorrà delizione costanza lavoro e pazienza Vi consiglio dunque di vedere tutti e tre i metodi che vi spiegherò per capire qual è quello che si addice di più al vostro scopo E volendo potrete applicarli tutti e tre che è la cosa migliore di tutte Attenzione però per riscattare i soldi che faremo online tramite questi metodi C'è bisogno di una carta di credito o di un conto bancario Se non sapete come farlo o non ne avete uno o siete minorenni eccetera C'è il link che trovate proprio in descrizione C'è il link video carta di credito che vi spiega bene come creare una carta di credito anche se siete minorenni eccetera eccetera Spiego tutto in quel video quindi non sto a perdere tempo in questo Pagina Instagram o Telegram? Il primo metodo per poter guadagnare è quello di aprire una pagina Instagram o Telegram di Fortnite Se non sapete quale delle due aprire vi consiglio di partire da Instagram Instagram è un social che viene sempre di più utilizzato oggigiorno e molto probabilmente verrà sempre di più utilizzato Ed è un social bellissimo praticamente penso che ormai tutti ce l'abbiano E ci sono tantissime pagine di Fortnite o di altri giochi E quindi quello che potete fare è aprire a vostra volta una bella pagina di Instagram che riguardi Fortnite oppure il gioco che volete voi Chiaramente più seguaci a un gioco e più è possibile che la vostra pagina venga seguita Se domani fate il gruppo su il cappellino di 50 centesimi di Octi non penso che verrà tanto seguita perché nessuno conosce quel gioco Non esiste però se lo fate su Fortnite molto probabilmente avrete tanti seguaci Sulla vostra pagina Instagram dovrete mettere i meme e le battute di Fortnite oppure le news oppure bug e glitch O qualsiasi altra cosa che funzioni e che sia una cosa interessante per le persone che andranno a finire sulla vostra pagina Vi svello un segreto che fa molto male al cuore A meno che voi non siate pro player come Tfew non gliene frega niente a nessuno dei vostri gameplay Quindi se voi aprite una pagina Instagram dove fate finta di essere un pro player E fate delle cose molto mediocre che non stanno neanche lontanamente a essere paragonate a quelle di Tfew Veramente lasciate stare perché nessuno vi seguirà Nessuno vorrà seguire una pagina dove voi fate vedere quanto bravi siete a giocare a Fortnite Piuttosto la gente seguirà una pagina divertente che fa battute Che fa news che fa aggiornamenti cose di questo genere qua Il vostro obiettivo è quello di arrivare a 10.000 followers Perché proprio 10.000 e come arrivarci? Beh come arrivarci è facile portando contenuto di valore La gente si iscriverà alla vostra pagina vi seguirà proprio perché voi portate valore Portate delle cose interessanti e non sicuramente perché voi glielo chiedete È assolutamente assolutamente vietato spammare Ve lo dico proprio perché quando sono su Instagram e leggo magari i commenti di un post E vedo gente che scrive Ehi siamo una nuova pagina che porta contenuti di questo La prima cosa che penso è uno Uno non me ne frega Due non ti seguirò mai Tre anche se ti rivedrò in futuro non ti seguirò mai lo stesso perché sei un patetico Perché se volete visibilità vi dico già che spammare la pagina non è una cosa che vi porterà visibilità Portare contenuti buoni è una cosa che vi porterà visibilità Perché quando io vedo qualcosa di buono dico al mio amico Ehi guarda che questa pagina è stra figa fa robe stra belle fanno stra ridere Sono stra interessanti guardala anche tu magari ti piace Ma sicuramente non è se questa pagina va in giro ad attaccare i manifesti con scritto seguitemi su Instagram che io lo andrò a seguire Su YouTube c'è un sistema dove se la gente si spamma YouTube gli fa credere che il loro spam è andato a buon fine In realtà tutti i loro commenti inutili e brutti e insensati Finiscono nella cartella possibile spam Dove da lì non usciranno mai e questa è un'immagine che vi mostro come esempio Di tutti i sfigati che si spammano sotto il canale e che loro pensano che il loro commento verrà letto da altre persone Ma in realtà YouTube blocca direttamente tutti quei commenti Il blocca in automatico Ormai YouTube è più furbo della gente e sa quali sono commenti di spam per ogni lingua E tra l'altro vi dirò di più Penso che molto probabilmente anche Instagram presto implementerà qualcosa del genere Quindi anche tutti i commenti su Instagram verranno direttamente disabilitati Penso che non ci sia nulla di diverso tra queste sfortunate persone e queste persone che si spammano Comunque arrivati ai 10.000 followers bloccherete uno strumento potentissimo Lo swipe up Lo swipe up nelle storie che potrete usare per collegare alle vostre storie un link dove la gente potrà andare Questo link può portare a varie cose Alla pagina Telegram che ora potrete aprire e sfruttare Oppure al vostro canale YouTube dove potrete caricare contenuti di qualità Oppure a un vostro sito personale se addirittura avete un sito Io per esempio ogni video che faccio lo pubblico sulla mia pagina Instagram con lo swipe up In modo che la gente da Instagram possa andare a vedere il mio video Vi consiglio anche per crescere di fare collaborazioni con altre pagine che hanno numeri simili ai vostri Vi sconsiglio di andare a chiedere collaborazioni a pagine che hanno numeri molto più grandi dei vostri Perché nessuno farà una collaborazione con voi E come si guadagna invece via Telegram? Beh prendiamo il caso esempio di Fortnite Italy Una pagina che è aperta circa ad aprile scorso anche grazie a me E questi miei amici hanno fatto una cosa geniale E vi consiglio comunque di seguirle perché sono bravissimi Infatti avendo una pagina che porta news e cose interessanti Aggiornamenti di Fortnite La gente è interessata a seguirle Hanno infatti 71.000 follower Chiaramente altre pagine Telegram, altre pagine Instagram o altri canali YouTube Sono interessati a avere pubblicità sul loro canale E quindi loro hanno un listino prezzi per le proprie pubblicità Che sono dei prezzi niente male, che sono dei guadagni niente male Chiaramente capite che per fare tanti follower, per fare contenuto di qualità C'è bisogno comunque di dedizione e di lavoro Certamente sfruttiamo la nostra passione Fortnite Ma cerchiamo comunque di lavorare e di fare dei soldi Nessuno vi regalerà i soldi gratis così tanto per mentre voi giocate a Fortnite A meno che appunto non siate veri pro players E chiaramente ci sono molti metodi alternativi per guadagnare sia via Instagram che via Telegram Che però non ho spiegato qua Io vi ho dato delle basi Adesso sta a voi Link affiliato Il secondo metodo per guadagnare sono i link affiliati Per chi non sa cosa siano i link affiliati ve lo spiego in maniera molto semplice Io sono Giorgino e vendo armi Chiaramente vorrei avere più clienti per guadagnare di più E quindi dico così Ragazzi chiunque venga da me e mi porti un cliente Io lo ricompenserò con una percentuale dell'acquisto di ciò che quel cliente comprerà Facciamo un esempio più pratico Io vendo RPG a 10 euro E però dico Chiunque mi porti un cliente che compra un RPG Gli darò un euro Quindi la gente è interessata a portarmi i clienti Perché sa che ci guadagnerà a sua volta Questo si chiama Affiliate Marketing E come voi potete sfruttare questa cosa? Con Amazon Affiliate Programme Ossia Programme Affiliazione Amazon Basta che lo cercate su Google Tutti compran da Amazon Ormai se c'è qualcosa da comprare online Praticamente vai subito su Amazon Perché sai che è affidabile e che funziona Io praticamente tutta la mia postazione Tutto il mio pc Tutto l'ho comprato su Amazon E ho fatto anche il video ultimamente alla mia postazione Se vi interessa lo trovate nelle schede E anche nella descrizione dei miei video Ci sono i link di tutti gli oggetti che io utilizzo Quando la gente va a cliccare su uno di quei link Viene reindirizzata la pagina Amazon di quel prodotto lì E se quella persona comprerà quel prodotto Io guadagnerò una percentuale che va dall'1% al 10% Sulla base del prodotto Facciamo un esempio proprio pratico Nella descrizione dei miei video trovate il link del monopoli di Fortnite Questo monopoli costa 30€ Io guadagno 5% ogni volta che voi andate a comprarlo Quindi se voi comprate il monopoli Io guadagno 1,50€ E voi direte vabbè ma non è niente Voglio dire come fai a guadagnare tanti soldi Facile perché se però 100 persone cliccano su quel link Il guadagno da 1,50€ diventa 150€ E capite che 150€ non sono affatto male E la cosa bella del programma Affiliazione Amazon È che se uno clicca sul vostro link Non importa se compra o no quel determinato prodotto Ma qualsiasi prodotto che comprerà in quella giornata Vi farà guadagnare una percentuale Capite quindi che per fare tanti numeri da questo programma Non basterà andare dalla nonna o dai parenti Che quando vogliono comprare qualche su Amazon Voi gli fornite il vostro link Avete bisogno di tante persone che comprino Per fare grandi numeri Anche perché Amazon paga solo al raggiungimento E la soglia minima dei 50 mensili Quindi se voi non riuscite ad arrivare in un mese A 50€ di guadagno Quei soldi si accumulano E quando riuscirete ad arrivare Finalmente ve li daranno E chiaramente i più furbetti di voi Hanno già capito che questo metodo Va di pari passo con quello che è Quello della pagina Instagram e Telegram Perché tramite lo swipe up di Instagram Voi potrete portare la gente A vedere i prodotti che voi avete comprato Ehi se il video ti sta piacendo E sei arrivato fino a questo punto del video Penso che la cosa migliore che puoi fare È iscriverti a questo canale Lasciare un mi piace Attivare la campanella Per non perderti gli altri video Di questo stile qua Il terzo metodo per guadagnare È il codice supporto a un creatore di Fortnite E qua c'è veramente un casino enorme Che la gente non sa E che chi ha il codice Deve assolutamente sapere Moltissima gente non ha veramente La minima idea di come funzioni questo programma Che però è molto simile A quello del programma Affiliazione Amazon Quando voi mettete il codice OctiPFI Nello shop Nella sezione supporto a un creatore Io guadagno 5 dollari Ogni 100 euro di V-Bucks Spesi da voi Quindi se tu mi stai supportando Come un creatore Cosa che ti chiedo gentilmente di fare Anche perché poi Se mi mandi le foto Ti riposto su Instagram Ogni volta che shopperai Una skin da 2000 V-Bucks Io guadagnerò un dollaro Ora c'è una cosa molto importante Da dire sul programma della Epic La Epic è stata forse L'unico gioco famoso Ad aver fatto una cosa del genere Almeno l'unico che io conosco E devo ringraziarla tantissimo Ma nonostante vada ringraziata Ci sono delle cose Che non sono proprio trasparenti Della Epic Games Che fa comunque la furbetta Per cercare di intascarsi Qualche soldo in più Il codice creatore Dura solo 14 giorni Quindi ogni 14 giorni Voi dovrete riaggiornarlo Ma il problema È che quando il codice si toglie Voi non lo sapete Non vi appare la notifica enorme Con scritto Ehi ti si è tolto il codice Rimettilo No Perché la Epic Tutti i soldi che voi spendete Tutti i V-Bucks che voi spendete Non usando nessun codice Li guadagna solo la Epic E non magari qualche creatore Che voi volete supportare Ma l'altra cosa Che veramente è assurda È che danno il codice a tutti E questa è una cosa Cioè ormai anche mia nonna Ha fatto la richiesta E gli daranno sicuramente il codice Cioè Le lo daranno di sicuro E sapete perché lo fanno? Perché la gente non legge La gente a volte ignorante Non legge La gente accecata Dalla voglia di denaro Non legge Infatti dovreste leggere Perché io immagino Che tra di voi Che guardano questo video C'è già gente che ha il codice supporto a un creatore E ha quei 10, 20, 30 amichetti Che lo supportano Come un creatore Pensano di diventare milionari Però c'è un problema in tutto ciò Voi non verrete mai pagati Finché non raggiungete la soglia Dei 100 dollari mensili Tu Caro bimbino Sbirulino Che hai 5 sostenitori E hai il codice Non si sa come È inutile che lo spammi Perché se fai 5 centesimi al giorno Fino ad arrivare a 100 dollari di guadagno Dal codice supporto a un creatore Ci vorranno mesi E mesi E mesi Infatti ragazzi Dovete sapere che per guadagnare voi 100 dollari Tramite il codice supporto a un creatore I vostri sostenitori Devono spendere 2000 euro 2000 euro Cioè E quando hai 3500 sostenitori Come me in questo momento In un mese La gente arriva a spendere Quei soldi là Ma quando hai 10 sostenitori Cioè Ma chi sono 10 persone Che spendono 2000 euro al mese Su Fortnite Cioè Presentatemi Voglio Voglio stringergli la mano Non so Quindi se avete veramente il codice E non avete tanti sostenitori E per tanti intendo Minimo 50 Lasciate stare Cioè non ha senso Avere 10 sostenitori Perché andrete a guadagnare 100 dollari Forse tra 7 mesi E ora che voi Andate a guadagnare Sti 100 dollari In 7 mesi Anche tutti i vostri amici Che vi supportano Avranno il supporto a un creatore Ognuno supporterà se stesso Nessuno guadagnerà nulla Tranne la Epic Games Che non dovrà pagare nessuno Perché tutti i piccoli creatori Dicono Oh sì Adesso guadagnerò Un milione di euro E quindi si mettono lì Usano il loro codice su se stessi Non guadagneranno mai una cifra Sono tutti soldi Che la Epic Games Si tiene per sé Furba la Epic Games Però comunque Cioè la devo ringraziare Perché comunque Col supporto a un creatore Ha fatto un lavoro Che moltissimi altri giochi Non hanno mai fatto Comunque anche questo terzo metodo Va di pari passo Con i primi due Quindi chiaramente Se voi riuscite ad applicare Tutti e tre i metodi Insieme Tra 1, 2 o 3 mesi Riuscirete a fare Quei 100 barra 200 dollari Magari ci vorrà di più Magari ci vorrà di meno Chiaramente è anche questione di fortuna C'è chi avrà più fortuna C'è chi ne avrà un po' meno C'è chi sarà più bravo C'è chi sarà meno bravo Ma si può sempre migliorare E col tempo Potrete sempre crescere E fare magari Qualche soldino in più Che vi aiuterà C'è chi di voi ha voglia Di mettersi in gioco E di provarci E c'è chi di voi dirà No è troppo difficile No non ci riuscirò mai Non ci provo neanche Eccetera eccetera Io vi consiglio di andare Per ordine Come vi ho spiegato io Primo Arrivare ai 10.000 follower Su Instagram E poi aprire una pagina Telegram Dove magari cercate di arrivare Anche lì sui 5.000 follower Nel mentre Cercate di aprire Il vostro programma Di affiliazione a Amazon E iniziate a guadagnare Qualcosina Spammando i vostri link Amazon in giro Terzo Ultimo Ma non meno importante Il programma Supporta un creatore Quando avete tanti follower Su Instagram O su Telegram È il momento Di sfruttare Il coach supporta un creatore Perché sapete Che se iniziate a spammarlo La gente Visto che avete tanti follower Magari qualcuno in più Vi supporterà Al posto dei soliti 5 o 6 amichetti Quindi Buona fortuna Nel mentre che aspettate Però supportate me